Se non ero meglio, io ho i KDA base, però. No, questo deve flexare la visione di religio. Allora, primo item, Leech Bane. Bravissimo, Riccardo! Però con lo giusto di velocità, perché è grande. Allora, fra, per ingaggiare facciamo che uno va avanti, poi salta addosso con la E, e ci va con l'altro, e poi saldi addosso con la E, e poi facciamo... Non posso farmi la titanica! Io ricordo abbiamo le ali, abbiamo... Abbiamo le ali, Riccardo. Aspetta, Riccardo, ma se non noi se facciamo l'animazione di Xayah... Aspetta, vieni qua. Io ho quitto. Funziona? No, che non funziona. Sì, possiamo ballare insieme. Funziona la passiva? Qual è la passiva? Io ho quitto. Traizzo di merda. Comunque, secondo me dovrebbero fare un chroma in cui diventa bianco. Cioè, guarda quanto è bello bianco. A me piace quello tipo viola-rosso. Ma è bellissimo quando diventa bianco, porca puttana. Io non posso fare la Titanic Hydra, io ho quitto. In teoria dovresti poterla fare. Non posso. Fragment, lo sai lo spam che si fa con questa skin? Se vero non puoi. Lo sai che cosa si spamma su questa skin? Questo, questo si spamma. Questo. Eh sì, si vuola. Eh, appunto. Sembrate due piccioni che stanno cercando di impressionare un piccione che... No, io faccio questo. Facci così, no. Sto schiccando di vita? C'è la mano morda o sto schiccando di vita? What the fuck? Sono tank, Giorgio. Vai, smantelliamoli tutti. Esatto. Smantelliamo. Guarda, 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 sopra. Ha flisciato. Madonna, quanto tryhard. Com'è l'Ares? Madonna. Io non lo so tolei ancora, quindi. No, l'Ares è buono, però... Ares è il cane di Expo. Soltanto a breve e media distanza, a lunga distanza. Quelli sai che faccio? Smoco in mezzo a... Al corso. Esatto, esatto. E li faccio. Comunque... Questa è una cosa che da... Cura mi, cura mi! Mitraglioni che da... Grazie, ma porco. No, mi ha ci armato, Ricca, mi ha ci armato. Sei pure morto lì. Grazie, Ricca, per gli scudi. Ragazzi. Ero ironico. Può interrompere la tablia col charme. Sobvio, mi sono. Sì, può farlo. Danno. Oh, Cristo. Sto che... Molto. No, ma vinciamo, vinciamo, ragazzi. Cheat. Siete voli che non ci credete abbastanza? Sì, infatti. Infatti, veramente, io non ci credo un cazzo sto... Arriviamo, abbiamo il TP. Noi no. Ma loro hanno un FK, tra l'altro. No, c'hanno il jungler. Ah, il jungler. Bot ha pullato. Altro è incogionito. Suga. Mio. Mio. Ma... Io preso il cannone. Ma questa sta sotto torre. Vabbè, che deve fare, Borach? Da solo. Vai, va. Ecco perché mori ogni volta quando ti lascio da solo. Volevi. Vinza. Dov'ai? Vabbè, va bene. Hai visto, Rika? Hai visto? Flash. Ma la botte Hilda. Davvero. La botte Hilda. Ma la vuole dire la midi. E vabbè. Di te non c'ho mano. Io ho sbeitato. E vabbè. Ah, c... Che bel champion, ragazzi. Che bel champion. Vabbè il champion loro. Champion nostro. Bravissimo. Bravissimo, Riccardo. Mi impari. Mi ha andato in pappa il cervello. Ho visto tutto. Mi ha andato in pappa il cervello. Mi impari, Riccardo. È stato bellissimo. Ma sai che sto pensando, Riccardo, che forse non è quello l'item giusto da fare. Il primo. Vabbè. Mi hanno muoio shottato, però ok. Forse lo so io qual è l'item giusto da fare come primo item. Mi hanno muoio shottato. No, a salita di lei. Quella re-mid, quella moriva. Si chiama Eva. Ammira. Dove sei? Guarda la mia build e ammira. Riccardo, ma sei troppo forte. Sto champion fa schifo. Oh, ma chi sta nella nostra jungle? Che succede? E di quello di prima ti piaceva, questo fa schifo. E di quello di prima ti piaceva, hai detto. Doppia, sì. Vabbè. Che stronzo. Stiamo che shittando. Che succede? Dov'è Bugo? Fra, ho fatto doppio. Adesso sono fiddato. Ok, adesso vieni qua. Arrivo, arrivo. Da dietro. Pronto Bugo? Sei pronto Bugo? Vai, Bugo, ci sono. Bugo 1, parla Bugo 2. Bugo 2, che merda. Bugo, fai schifo però, Bugo! Che cazzo, Bugo! È colpa mia se c'ha una ulti con 500 dash, scusami. Comunque, Fra. No. Potete parlare di come il minino è in piena... Il minino dei cecchini è in piena in cia. Fra, se vai avanti, ci ti arriva addosso. Sai che erano notate, perciò? Dov'ho andata, perché non li sto utilizzando, i giochini? Oh, Bugo! È rotto il piatto! Bugo! Eh no, mi flasha, mi dà fastidio. Bugo? Adesso non ce l'ha più. E tu devi predictare i flash, Bugo. Sì, non è che ci possono andare a doppia il range, perché predicto. Non è che dico al gioco, come ho predicto o ha doppia il range. Ma mamma mia. Perché non posso ora usare la E su me stesso? Quella di te la cia grande è tutt'umorale. Vuoi Bugo? No, Giorgio, non mi abbandonare. Che devo fare? Ora, io la daiverei, eh. Fra, che dici, la daiviamo? La daiviamo, Fra? Porco giù dalla cia armato. Porco, ci vado, ovvero, tra quando uso il TP. Guarda, Bugo, quanto siamo forti, Bugo. Prendiamo le stack, Bugo! Scappa, che è finito il cuore tutto, finito. Porta un cazzo, Bugo, mi porta un cazzo. Arrivo, adesso ingaggio. Oh, quanti ne sono! Ah, no. Scherzato. Ragazzi, volete andare voi controllari da sola, che magari ce la fate? Magari qualcuno viene midi, invece sta ritrovando in cojoniti là. No. Stiamo pushando. Noi sbattiamo le nostre ali. Giorgio, se ti piace questo champion, no? Io l'odio. Passato da... Mi fa schifo, l'odio. Mamma mia, ragazzi, ma perché è un support, non è mago, porco Dio, c'è? No, è perché ci stiamo giocando contro mare. Arrivo, Zeran, arrivo. Ammira il potere della Witsand! Hobot! Quindi, ragazzi, adesso inizio a scalare. La rudovetta. Ti è un po' di prendere quel drago, Riccardo. Con quali danni? Non ci abbiamo danni. Abbiamo la E e la Q, ci abbiamo sustain, va bene. Ma via dal cazzo potrei andarci, tu. Ragazzi, andiamo, tutti al di là. Chi? Sage, sì, Sage cura. Quale? La cinese? Ah, Phoenix. Sì, Phoenix, se sta sotto la fiamma è sicura. Pure! Pure! È una felicità. In realtà c'ha tipo una cura di una cosa come ventiere a capione. Oh no, George, io lo so, ma anche un. George, vieni qui, porca puttana. George, vieni qui! Non so voi. Ragazzi, sto a piu' di asberle proprio secche, così. E no, K, no! Ah, mi ha scelto. George, vai! No, George, no! George, no, George, no, Fragment! Vieni qua! Niente! Ho sentito le urla di una maiale. Ragazzo, che andiamo. No. È solo il mio motivo di vivere, però, che non posso fare la Titanic. Beh, via ragazzi, mo perché dovete tornare così, voglio dire. Perché state in negativo, non è che... Ma che cazzo? Mi hanno sparato... Ai piedi mi hanno sparato. Ari, vuoi vedere come ti one shot? Guarda, Ari. La mid la lascio a voi, la jungle adesso è il mio domino. Ma... Guarda che danni! Guarda che danni! È finita la combo, però. È finita la combo, però. Ha flashato, ha flashato, ha flashato. Se io faccio metà vita con una combo... Ma, signor jungler, costi! Devo recuperare un po' di livelli. Costecca. Vai, fagà, ci sto. Vai, vai, ingaggia, ingaggia. Ingaggia, ingaggia, vai, su, salta! Ci saldiamo su di te. Il cotto fa schifo in jungle. Prendetela, guarda! Ah, ragazzi. Quattro l'altro. Facciamo tipo una catena di montaggio. Io ho saltato su due persone e poi non sono andato dentro. Quella botta, quella botta, quella botta. Quella botta. Quella botta. Che cazzo è sempre a me, prendono. Sberrala. Il drago, il drago! Mi fanno male, mi fanno male. Mi fanno male. Giorgio! Scappa. Tu perché hai broccato il drago, Zerent, esattamente? Volevo farlo. Poi avete 3 yardage. Il drago, arco... Io sono leggero. Io sono nocturne. No, davvero. C'è l'Ari con lo smite, l'invite. Dove? Io non ho l'elucinante. L'Ari qua è quello che lo smite. Lo posso fare questo? Oh! Vabbè! La WP! Ah, è vero, Adi può cliccare le W e R. Giusto, è un cammino bello, Ari. Guardalo, Giorgio! Guardalo, Giorgio, che skill! Ok, Dija, sei pronto? Dija, vieni qua. Ok, come non devo. Giorgio, però, mi ci hai fatto credere un pochino. Mi hai fatto sognare. Vieni qui, vieni qui, vabbè. Appunto, mi hai fatto credere. Mi hai fatto sognare. Mi hai fatto sognare. Sei pronto, Dija? VATTA, VATTA, VATTA! Porco di quel grandio cane, il suo cazzo di Charm di Mera. Anche noi ce n'abbiamo uno. Però il nostro è la ultimate. Esatto, il suo non è una mossa del cazzo. Davide ha visto il culo. Ma che culo, ti sei pure salvato. Aspetta, Zevant arrivo! Guarda, va. Zevant arrivo, non puoi vincere l'autotattaccio. Oh, oh. Non puoi vincere l'autotattaccio. Madonna, salto il gioco. Vai, ricca, vai, ricca. Salta addosso a me. Vai, ricca. Salta addosso a me di nuovo. Ha flashato, Ari si ha flashato. Ha flashato, va morto, morto! Tutta la mia cosa, non puoi vincere la questione. Ragazzi, quella mid. Oh, ma quanto vuoi stare, Monster Hunter, dio santo. Rakan Squad, roll out. Va morto. Aiuto, 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 aiuto. Sto campion fa schifo. Sì. La cosa di Rakan è che la sua cura è un po'... AIA! Sto scettato. Aspetta. Ehm. Ah, ah. E diciamo, poteva andare meglio. Poteva andare molto meglio. Uh! Sì, ma non ci avvicino, perché tu vai troppo lontano! Smetti da andare così lontano! Mamma mia, con la WP! Io avevo capito che la WP, il Torecom, doveva non shottare. No, no, shotta, shotta. Shotta, shotta. Attento, è quella fuggata. Ho provato sulla mia pelle. Tranquillo, ho provato sulla mia pelle. Non è che è questo, con la WP shotta. Bravo. Perché non mi hai shildato? Non mi ha shildato. Ho shildato due volte. Non ho shildato. Tranquillo, ho provato sulla mia pelle. Shotta, shotta. Io non sto maxando lo spugno, io. Madonna santa, cos'era? L'avete umpata? Va bene, è così. La morte, la morte è da... Ma credo che il tanker stia funzionando molto bene. Ma tu dici. Principalmente perché l'aria è un po' troppo sproker. Sì, è quello top lane. Ah, dai. Stavo debushando. Sarà una bomba emozionante. Ma il Monster Hunter se ne va via o sta qui finché non muori? Ma chi è il Monster Hunter? Monster Hunter è l'effetto che prendi meno gold. Cioè lì te l'ho completato. No, se l'hai completato va via. E non va via. Cazzo. Su, capo. Su di merda. Oh, porco di aria. Suga. Non ho il Nocturne. Che cazzo sta succedendo? Noi voliamo in giro. Tranquilli ragazzi, se arriviamo in letto vinciamo tranquilli ragazzi. Il Charm è tutto. Cioè il Charm è tutto. Ah, 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 tornatelo a me. Ma come sono morto io. Guarda che roba, che combo. Vai Giorgio vai avanti, salda avanti, vai. Bravissimo. Se saldi ti seguo. Vai salda su di me. Mamma mia, signori. Quella là sta... Intanto c'è quella mid. Ma ce l'ho dicendo io. Dopo aver fatto lo snack della brutta. Veloce però. Eh, con calma. Con calma. Cosa l'attore? Vi avete fatto prendere l'attore? Siete inutili. I danni di uno dove quel graspo è di turn the jungle. Sì, è sciotto. Sì, sciotti. Sì, sì, tu sciotti. Oh, sono morto. Non è vero. Vai, sguscia su di lui. Sguscia su di lei. Sguscia, sguscia. All'attacco di nuovo. Forza di mantellare. Irritazione alla pelle di facciaccia. Le sfreghi. Eh sì, con tutte le piume scuole. Fa abbastanza... Ma la fa male. Come se ti diventavano una scopa e inizio a me nati. Eh, il mio problema più grande è stato che la E non serve a un cazzo in lei. Aia! Fra arrivo io! Fra arrivo! Venissimi! Sono io! Il tuo obiettivo. È un coglione. È arrivato qualcun altro. Vai, sgusciamo. Vai, Riccà, sguscia, sguscia. Sguscia, Riccà. Goll'out, goll'out. Madonna. Vai, sguscia, Riccà. Sguscia, sguscia. Sono per match armato, ma sono io quello che dovrebbe ciarmare. Guarda che teamfight che abbiamo. Quelle mantellate. Non lo uccideremo mai, sto drag. Non è io, sono un attack speed. Perché c'è, perché c'è un sostegno della Madonna. Un attack speed? Non ci sta capendo più niente. C'è da sgusciare. Scusciate, ragazzi, sgusciate. Sgusciate, ragazzi. Oh, aiuto. Team Dant, aiuto. Sgusciate su voi stessi. Andate. Mi ha preso, mi ha preso. Easy. Ha 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 ha. Lo sapevo che attack speed era la scelta giusta. Non ho capito. Non sono sicuro. C'è un Ari. Sai com'è. Sono solo Ari. Arrivo. Arrivo a Zeran con la velocità della luce. Aspetta, andiamo. Aspetta, due secondi. Eh sì, ma aiuto. Ho giocato tutto questo. Fa W R R R R. Stai ancora, ti vendico io. Vabbè. Eh vabbè, niente, è finita il combo. Arrivo, 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 arrivo. Ficca, scappa. Oh, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Di chi hai i 50 tizi dietro. No, 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 ma perché ce l'ho bella qua, c'è un pochino? Perché non ti baciano, vieni qua. E muori. Perché fa schizzo. Ah, ok. Fra, tocca a te lasciare poi Giorgio scappare con te. No. Facciamo l'intera mappa. Eccolo, io no capo, noi volevamo. Vieni qua, Giorgio, mi fai i danni, vieni qua. I dannetti iniziamo a fare. Eh, ma Giorgio c'è gabbadonna, porcate cavalli. Io fra un po' c'è gabbadonna. Eh, Giorgio, ma è uno score peggiore del mio. Tu hai 10, 16 o 10, 1. Ma davvero fa! Sgusciate, ragazzi. Ancora un dash, c'è. Sgusce, sgusce. Si è un po' shottato, eh? Arrivo! Ma riesco a farla una kill! Non è colpa mia se non fai danno. Guarda come corro, sembra che sei un personaggio di Giorgio. Ma perché c'è ancora il Monster Hunter? No, ma mi sto a pallare a W! Che merda, che merda. Buongiorno anche a te, Dicchia. Benvenuti. Eh, dai! Doh! Corri, Giorgio. Io ti correremo. Ti ammira il mio attack speed. Ma fammi vedere. Eh, setta. Ma va, cagliari. Ammira! Giorgio, li faccio i mega danni, che pensi? Giorgio, ma non ho mai attaccato qui. Ma da treni? Non lo fanno WR, male! Giorgio, la terriera di branco. Di branco? Dello stormo, che sto mai. Andiamo, andiamo! Che ande è uno stormo? La terriera degli uccelli. Andiamo, la stormo di la canna all'attacco. Ma giù da poco! Ma di capare di capare! Ma porco giù da! Non mi sono potuto muovere! Eh, no. Non quello ci faccio. Zeland è completamente... Madonna, la casa! Andai, Gesù! Avete lisciato tutto! Oddio, che danno! Avete lisciato tutto, ragazzi! È una tattica dello stormo di Rakan! Non è che... Quando si è sberling... Scusate tutti, Zeland! È quello che fa l'anni dopo la combo! È quello che fa l'anni dopo la combo! Sì, Zeland! Qualche modo! Zeland è quello che fa l'anni dopo la combo! Lui nero! Che sta succedendo? È una trenta! Tranquilli, ragazzi. In Lick la vinciamo? Sì, certo! In Lick in un fight prendiamo tutti il charm, e poi rimangono charmati per tipo 8 secondi. Beh, oddio, lo fa anche adesso. Sì, sì, anche adesso. Perché è 1,5 per 5. Ma perché ho ancora il monster? Guardate quei l'anni! Guardate... Eh, vabbè, ma c'è armato. Vai, Fra! Vado! Ma basta! Vabbè. Se proprio devo. Ah, c'è armato pure i million. Oh! No, non ci sono. Ok, 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 ok. Ah, no! Ok. Minchia, però perdiamo un sacco di tempo. Vai, corrigli dietro, corrigli dietro. Ah, l'aveteci armato. la nostra uccellanza è troppo forte andiamo tutti a fare il drago la nostra uccellanza è troppo forte oh madonna il drago dell'aria il drago dell'aria ci serve tantissimo secondo me ho idea di merda però va bene zitto Yuki curatevi usate il drago per curarvi no ragaga vai scudi scudi a tutti la trevia dell'uccello dai dai mena e ti a cristo mo lo ci armo mo lo ci armo ma lo stanno venendo da voi dopo un'ora e mezza ce l'abbiamo fatta via c'è un'aria che sta venendo dalla mid lane via saresti ricollato se sta venendo da gioco non mi fido a parte che c'ho lo scudo è vero ragazzi mi serve una mano mid lane non riesco a depushare ci penso io io ho attack speed necessario per fare queste cose ninja ma mi faccio il banshee mo che ci penso pazza sap permane chiamano ci vi chiamano dove guardia … sto vedendo a salvarti cuori verso di me eh niente madonna santa quella col bacino non gli posso saldare addosso che cazzo avete fatto stavate ballando attorno alla roccia è tornata oddio Giorgio ti sei preso tutto no ma siete morti tutti abbiamo oltrepassato quella roccia non so quante volte Zedant in base quella non è quella non è la base ma tryhard no? eh si si sta tryhardando madonna santa che schifo dai che merda vieni qua pezzo di merda oh si è fatta la banshee che infame vabbè ce la faremo pure in metà vedi si sta solo 3 secondi arriviamo dragon squad roll out vabbè tutti là il banshee ok uno glielo tolto io volevo vivere però uno vuole cliccare R però quelli c'hanno in ciarna tutti tira dritto no? quanti figlianti sono qua? vai tutti sono assessari si raga si raga si no volevo stirarla tutti a sgusciare non so sgusciare vai tranquilli sono tank io sopravvivo esattamente sei sopravvissuto a te no fredda no vieni qui muovio guarda quella guarda che schifo guarda che schifo di donna non fate danni dopo la combo fate schifo ma non vai ma loro lasciano più di noi guarda loro lo sanno che avrebbero cazzo dai che sfami però può accadere un po' di divertimento ma loro lasciano più di noi non vai ma santa comunque Ari credo che è il cammino peggiore che poteva capire cacci contro qualsiasi altro campione probabilmente vincevamo questo no un campione che ci sciarga io li stavo attaccando a morti di chi ha visto il potere del racconto full attack spirit ok dicevamo ok sono le 6 e mezzo grazie a tutti